Baldi Bottega effettua un restyling del proprio punto vendita, in via della Barchetta 8, a Iesi. Il personale, attraverso le nuove linee, arricchirà le proposte con informazioni dettagliate e curiosità riguardo provenienze, tagli, ricette, consigli di cottura e di conservazione. Il cliente verrà guidato tra la linea Premium, la linea Genius e la linea Explora, che permette un viaggio di sapori in tutto il mondo. Baldi Bottega ha deciso di far iniziare questo tour ai suoi clienti partendo dalla Scozia ed in particolare dalla regina di tutte le carni, la razza Aberdeen Angus. L'offerta non si limita al solo reparto di carni fresche, ma anche a tantissimi hamburger da abbinare ad una vasta gamma di prodotti professionali, come salse, sali, panini, patate fritte, contorni e tanto altro ancora. Da dicembre è previsto per tutti i clienti possessori della carta Fidelity 5 euro di buono sconto validi su tutti i prodotti presenti da Baldi Bottega, in via Barchetta 8, a Iesi.